eccoci dovremmo dovremmo esserci abbiamo poco meno di una di una mezz'oretta questa mezz'oretta vi leggerò alcuni alcuni passi del mio del mio ultimo romanzo e cosa rimane dei nostri amori bene leggerò quattro sicuramente il primo il primo capitolo e l'ultimo fra il primo e l'ultimo ne ho scelti due che in realtà a me piacciono piacciono tanto e che nella nella logica del romanzo hanno un ruolo importante perché vi leggo il primo il primo capitolo io sono convinto che la lettura di un romanzo sia inevitabilmente un viaggio e quindi l'autora un compito importantissimo cioè il compito di di portare da qualche parte il lettore ma non solo questo deve portarlo all'interno del suo mondo in un tempo brevissimo per me è un tempo brevissimo e già nelle prime 22 pagine ecco perché per me i romanzi più belli sono proprio quelli che già la seconda pagina ti hanno ormai traghettato verso verso un altro posto e tu in quelle pagine devi già sentire il clima del romanzo il clima del luogo in cui il romanzo è ambientato ne devi sentire il caldo ne devi sentire il freddo la neve il sole devi sentire i sapori deve sentire i profumi gli odori ecco perché vi leggo e ho deciso di leggervi queste due non sono due pagine forse sono sono un po di più ma sono le pagine del primo del primo capitolo quando saverio marrapodi viene trovato scannato come un porco lungo la strada che dalla vigna di barracco portava santufrasi l'aria era così profumata di origano da far pensare che tutte le femmine del paese avessero cucinato alicea riganate era mezzogiorno passato e a cacuri la luce si affinava fra i lecci della villa e i merli del castello con curiose movenze di discreta perlustrazione il verso delle ciavole sfiorava le case soffuso e carico di suoni primaverili sembrava che fosse appena finito l'inverno e che potesse essere bel tempo per chissà quanti giorni ancora avevo da poco compiuto sette anni ed ero seduto a tavola con tutta la mia famiglia in posa per il pranzo festivo papà si alzò spostò le tendine della finestra e si passò la mano sugli occhi offuscandovi e restò incastrati in un'oscurità privata mentre le mie sorelle appoggiavano alle labbra un cucchiaio di un'insipida minestra di patate e cipolle tanto sciapa da avere l'inconsistenza di un sorso d'acqua fuori per tutta cacuri la festa continuava bancarelle con pupazzi ma stazzole palloncini pellegrini arrivate dappertutto c'era in sia casersilano potronei e poi la banda gran cassa due bassi una manata di clarini la progestione di san giuseppe aveva già fatto tutto il giro del paese dai sifarelli alle monachelle era passata dalle strade nuove dei croci di risivelli della parte mancavano all'appello le vie della zona vecchia vicoli stretti come intestini di capretto dove la statua passava a malapena e i portantini si dovevano accovacciare per non urtare i cornicioni dei balconi o i panni stesi al primo sole di primavera i musicanti dopo aver suonato per mezz'ora filata sul sagrato di santa maria delle grazie appoggiarono a terra gli strumenti giusto il tempo di riposarsi poi ripreso il percorso verso il castello con il suono che ormai si era spompato quasi avesse perso nel tempo il vigore e la contentezza delle note mattutine avviandosi a diventare una cosa fatta a forza quando il soffierare stanco di una giornata di fatiche non faceva freddo il sole era riapparso dopo una settimana di pioggia ed era un sole tiepido nonostante fossi inseguito da nuvole spinte da un venticello costante ma mai fastidioso e per l'aria venature che più vario pinte di così non si erano mai viste colorate fuggevoli restavano in poso un attimo prima di essere trascinate via per la volta celeste strisce eterie di nuvole che erano come un abbraccio rubata alla stazione dei treni o sulle banchine dei porti un calore da prendere e conservarne il profumo ci azzecava proprio una giornata colorata con sole e soprattutto senza pioggia lo aveva sperato il procuratore di san giuseppe che si dannava l'anima tutto l'anno per la riuscita della festa lo aveva desiderato il giovanissimo direttore mario cantorato che nello scantinato di casa sua accoglieva quattro volte a settimana almeno venti suonatori tutti i cacurisi mascoli soprattutto chi per pochi giorni chi per mesi o anni avevano avuto in mano uno strumento e tra questi c'era anche saverio un ragazzone del quale si diceva un gran bene con il bombardino faceva magie grazie a dei giri armonici capaci di abbellire anche le più depresse marce funebri ecco perché quando quella mattina il direttore non lo vide si salì gerale il sangue alla testa e il fatto che neanche la fidanzata del giovane si fosse presentata gli fece uscire di bocca un paio di male parole così scostumate da far avvampare le persone che gli stavano vicine perdere bombardino e clarino per la festa più importante dell'anno dopo san rocco non gli andava proprio anche perché qualcuno con malizia accennava una fuitina visto che il dottor spadafora il medico del paese non vedeva di buon occhio quel fidanzamento e se così fosse stato i due il maestro li avrebbe visti con il cannocchiale forse persi per sempre nello stesso istante in cui il cielo sembrava una giostra di cavalli bardati e san giuseppe se ne stava appoggiato sopra un tavolino nel vaglio con i fedeli desiderosi di ricaricarsi dopo una lunga amperticata una strana conversazione attraversava i fili della rete telefonica percorrendo poche centinaia di metri carabinieri di caccuri sono garofano mi dica la voce era impastata mentre i suoni uscivano lenti ricordavano un'azione sulla fascia di una partita antica sono francesco pontieri proprietario del bar in piazza mia moglie sera fine ha ribellata sostiene che sua zia ha visto il corpo di un ragazzo in una pozza di sangue le parole dell'uomo erano cariche secche intervallate da marone gesù cristi proprio come chi era stato catapultato di colpo in una manfrina cazzuta con calma signor bordieri pontieri con la p e la n mica io quando ho telefonato detto garabiglieri va bene va bene mi vuole per cortesia ripetere cosa è successo esattamente ma che ne so jemrinda mia moglie ha visto tutto e allora mi passi una delle due le posso solo passare mia moglie della vecchia non abbiamo notizie va bene stia tranquillo mi passi la signora commissario carabiniere prego vabbè comanda stamattina presto telefonata mia zia che abiti in campagna verso la vigna di barracco chiedendole la cortesia di raccogliere quattro foglie c'è un posto sotto il campo sportivo dove ce ne sono ammunselli sapete a frangiscazzo mio piacciono da morire fritte con aglio peparello e poi messe su una fetta di pana brustolita al fuoco lasci perdere questi particolari e mi dici invece cosa da segnalarvi zia mi ha chiamato circa mezz'ora dopo dicendomi che stava per togliere dalla borsa un curtelluzzo quando ha visto un ragazzo da lontano le pareva uno che stava prendendo il sole con una mano appoggiato dietro la nuca come si sa su di schiazzare mi ha detto che sembrava uno di quei pastorelli dei quadri quando si sdraiono e guardano le pecore nemmeno fossero fimmine spogliate vada avanti signora la prego non si perde in questi particolari e non mi aiuta proprio facendo così interruppi il militare che da pochi giorni era stato comandato alla caserma di caccuni la prova era cristiana si sbagliava non era come pensava perché avvicinandosi visse un guaglione squarciato da un orecchio all'altro c'era qualcun altro insieme a sua zia no nessuno solo un gatto mi disse che non appena la vide spari di corsa nemmeno avesse incrociato un fantasma e la signora ermelinda dov'è adesso non lo so non so proprio cosa pensare non risponde più a telefono sono preoccupata grazie per il momento ma la prego rimanga a disposizione avviso il maresciallo e ci richiamo sul posto vedete voi secondo me è successa una manfrina terribile sembrava un feroce regolamento di conti con un giovane carabiniere con le palle piene di queste storie e infastidito da una telefonata di una donna che per colpa di un morto ammazzato e di una zia rintracciabile non aveva potuto preparare al malito le foglie con aglio e peperoncino era invece l'inizio di una vicenda che per anni tenne con il fiato sospeso non solo pacuri e tutta la provincia di crotone ma l'italia intera perché proprio quella mattina in cui venne trovati il corpo di saverio marrapodi e a pochi metri quello della povera ermelinda guzzo anche silvia spatafora la figlia sedicenne del medico condotto e tanto bella che persino i remaggi del presepe si giravano a guardarla sparì con il clarino sotto il braccio mentre andava al negozio di salvatorello a comprare un paio di etti di mortadella senza pistacchio di lei non si seppe più nulla e nel 19 marzo 1964 e io avevo da poco compiuto sette anni quindi questo è il primo il primo capitolo e siamo in un giorno particolare a cacurie il 19 il 19 marzo e del 1964 era la festa di di san di san giuseppe in realtà e nel secondo capitolo la storia si sposta si sposta e si arriva al 1992 quel ragazzo di sette anni è diventato un uomo diventato un uomo di 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 successo e da lì da lì inizia a ripercorrere la la storia dei due omicidi e dalla scomparsa della 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 ragazza permettetemi una cosa leggerò adesso un piccolo un piccolo passo che forse non è determinante per la per la storia in sé ma a me piace molto perché mi ricordo un luogo particolare un luogo che io frequentavo da da bambino ed è la la canonica per la canonica stava don marcello poli don marcello poli e colui che è arrivato a cacuri nel 63 e negli anni 90 accusa il padre del protagonista di essere il responsabile della scomparsa della ragazza e degli omicidi per cui è una delle cose che fa jacopo quando ritorna a cacuri per indagare sul caso è quello di andare alla alla canonica e lì c'è questa scena in cui in cui jacopo incontra fortunata fortunata è la e la perpetua del di don marcello poli è un brano breve mi fermai a guardarla mentre ci acqua i bicchierini si girò e mi guardò anche lei con una scontentezza la cui sostanza chissà perché pensai fosse stata coltivata nella nostalgia per un affetto mancato e per le premure che erano rimbalzate nelle pareti della canonica senza mai fermarsi senza mai diventare corpo ma tu volevi bene a don marcello le chiesi le abbassò la testa stava per dire qualcosa ma manca un suono le uscì dalle labbra e lui lui a te voleva bene continuai fortunata alzò le spalle non le abbassò per qualche secondo quasi provasse piacere nel lasciare quella domanda sospesa pensavo a quanto gli amori potessero essere energici inarrestabili una volta chiusi nella riservatezza del proprio animo e quanti invece la forza di esprimerli e soprattutto di accettarli fosse esitante impacciata e mi chiedevo perché negli occhi e nei movimenti di fortunata vedessi lo stesso scontento presente in quelli delle mie sorelle eppure la perpetua mica aveva letto madame bovary o il libro dell'inquietudine di pessoa o le poesie di alfonsina storni i sentimenti mi convinsi erano capaci di rendere tutti consapevoli in ugual misura e fortunata con le braccia lunghe distese verso gli oggetti della sua stanza impregnata di parole non dette ne era amaramente al corrente e allungava il collo per seguire con invidia l'esternazione affettuose di peppino pitero con i clienti della sua falegnameria e in questo passo ritroviamo due personaggi importanti del romanzo e poi un personaggio che con la storia non c'entra assolutamente nulla si chiama peppino pitero è un falegname che abitava proprio nei pressi della canonica e che mio nonno e io questo brano questo brano che ho appena letto se mi permettete voglio dedicarlo al professore Antonio Guzzo il professor Antonio Guzzo è ormai uno dei pochi personaggi che è in grado di darmi delle informazioni su ciò che è successo a Caccuri negli anni negli anni scorsi ci siamo sentiti poco fa e mi ha dato una un'indicazione importante ma glielo voglio dedicare anche perché oggi festeggia il 49esimo anniversario di matrimonio vi leggo un altro passo questo questo passo è ambientato in un paese che si trova nei pressi di Caccuri si chiama Savelli è in linea d'aria dista pochissimi chilometri da Caccuri però per arrivarci c'è una strada terribile e Jacopo con il maestro Cantorato si reca in una giornata di dicembre a Savelli e a Savelli succede una cosa importante perché dopo questo viaggio di Jacopo e di cantorato a Savelli un personaggio in un bosco in una pineta di Savelli fa una strana scoperta un qualcosa che nella logica del romanzo avrà un suo ruolo avrà una sua una sua importanza erano le giornate di inizio dicembre di quelle che minacciose promettevano le prime nevicate un cielo grigio a volte più scuro verso l'asila concedeva ancora speranze di passeggiate tra i pini a Caccuri di sicuro a Savelli non ero certo la notte precedente la colonina di mercurio era scesa sotto lo zero e una patina di ghiaccio aveva coperto il sottobosco fino alle 10 del mattino poi le temperature si erano attestate verso quella condizione ideale che avrebbe permesso ai fiocchi di scendere lenti e fissarsi a terra a mezzogiorno i dodici tocchi del campanile avevano presentato un paese impiancato non completamente ma a chiazze passò un'ora e un vento si levò e si accanì a sparpagliare tutto nessuno per strada a pieno grande solo oggetti un lampione appesa a un filo d'ondolava pareva un trapezista che sanna cavari proprio del tripo proprio prima del triplo salto mortale mentre le ante di una finestra cicolavano come un lamento una macchina passò dubbiosa parve sbandare poi ripresi il percorso sembrava un pugile dopo un colpo al mento dalle tegole delle case ruzzolavano spruzzi di polvere granulosa distribuita a casaccio dalle folate nonostante il brutto tempo a salvatore anania toccava tirare le strisce del campo sportivo al pomeriggio sarebbe arrivata la squadra più forte del campionato di seconda categoria il verzino 11 lupi in campo e altri sette otti in panchina ad arraggiarsi l'anima per 90 minuti e poi si trattava di un derby mica di una sgambettata fra scapole ammogliati le magliette azzurre quelle che il savelli utilizzava per la partita di casa erano state lavate e messi in ordine anania le avrebbe presi in uno sgabuzzino dove si trovava la lavatrice la stileria e poi appese ai singoli attaccapanni segnate dai numeri dei calciatori era un impegno gravoso forse quello che gli pesava di più perché diceva che era un lavoro da femminella salvatore amava invece squadrare il campo di gioco anche quando faceva tanto freddo da far gelare la calce aveva cominciato dalla meta campo che dava verso la pineta poi sarebbe stata la volta dell'aria di rigore non era tanto difficile bastava seguire quello che era rimasto delle strisce precedenti e non distrarsi per non fare zig zag quello era il compito più importante d'altronde lo aveva ormai capito dopo dieci anni di calcio dilettantistico ecco perché ripeteva a se stesso calma e sangue freddo neanche dovesse tracciare i confini fra le due germanie aveva infilato in una tasca della tuta un mangianastri e ascoltava le canzoni di pupo a volte quelle dei teppisti dei sogni e se ne stava con un mozzicone di sigaretta in bocca spento altrimenti il fumo gli sarebbe entrato negli occhi facendogli perdere l'orientamento non era un impiego vero e proprio ma riusciva a mettersi in saccoccia 400.000 lire al mese che uniti ai pochi altri spiccioli di un lavoro saltuario gli permettevano di campare visti il tempaccio per scaldarsi aveva messo in un'altra tasca una bottiglietta di liquore alla liquidizia ogni 20 metri un sorso fregandosene di chi gli diceva che se avesse continuato la pressione sarebbe schizzata alle stelle salvatore a volte prendeva la calcio in un sacchetto e la estendeva nei punti l'accia di scoperti dalla macchinetta la pestava con le scarpe prima e con la mano dopo rendendo la striscia perfetta come un disegno geometrico era scrupoloso e i ragazzi lo gratificavano non solo quando sostenevano che le magliette erano più profumate di quelle che lavavano le loro mambe ma quando con una pacca sulla spalla lo facevano felice dicendogli che il suo campo era squadrato meglio di san siro ogni tanto per non sentirsi solo lanciava all'aria un gelato al cioccolato dolce un po salato o piccolo fiore dove vai e il canto si perdeva nella pineta o nei loculi del vicino cimitero disperso un pugno di calcio all'altezza del rigore e si fece un altro goccio di liquidizia si passò la lingua sulle labbra e poi allungò lo sguardo verso la marina nonostante il freddo la giornata si stava rischiarando e con il verde che digradava fino a tuffarsi nei percorsi del neto e i paesi appoggiati alle falde della pollina prendevano colore dalle nuvole chiare si controllavano a vicenda a distanza con rispetto quasi fossero parenti da frequentare con parsimonia aveva finito sembrava un campo da serie a mise tutto a posto e congiunse le mani a voler forse pregare la maronna affinché non facesse né piovere né nevicare più anche se salvatore sapeva che a dicembre in sila il tempo cambiava proprio come l'umore delle filmine una fitta all'altezza della viscica gli ricordò che non pisciava dal mattino uscì da un buco della rete e si appoggiò a un pino mentre il canto di pupo si levava benagurante su di noi nemmeno una nuvola su di noi poi siccome gli dava fastidio guardarselo intanto che lo scrollava per eliminare le ultime gocce giro il capo e fu in quel preciso momento che si accorse di qualcosa di strano conosceva quei posti meglio di casa sua e ogni minima variazione del terreno gli saltava all'occhio con violenza una chiazza infangata si stendeva per quasi un metro spezzando la regolarità del terreno beve un sorso di liquidizia e bloccò la canzone dei teppisti dei sogni quella che gli piaceva di più degli occhi tuoi non so il colore so solo che mi fanno in il silenzio improvviso aumentò la tensione ma che cazzo è si avvicinò piano piano mentre la macchia diventava strana non solo nell'aspetto ma anche nella tinta il vento ripresa a soffiare e salvatore non sapeva se lasciare tutto lì e fregarsene o andare a fondo per capire meglio penso anche a un cinghiale o chissà a un lupo morto di fame trovo un pezzo di legno lo afferrò con l'intenzione di smuovere quella massa ma quando vi fu vicino vi poggiò sopra lo scarpone e finalmente capì cos'era era sangue rosso mischiato alla neve al fango e a una peluria scura per fortuna non era un cristiano aveva visto le bestie morte ammazzate altre volte ecco perché si meravigliò di come non avesse compreso prima girò intorno al groviglio poi si ritrovò al punto di prima si abbassò di colpo gli sembrò tutto chiaro tirò un sospiro di sollievo e ritornò a sistemare la calce bianca sul dischetto del rigore pensando a quel povero cane che aveva visto da qualche altra parte e che era stato scannato neanche fosse un porco buono persatizze suppressate e un paio di prosciutti mi hanno detto di fare 20 25 25 minuti il capitolo finale non so se riesco a leggerlo tutto però ve ne leggo ve ne leggo solo solo una parte anche perché le pagine finali poi dovrebbero ricollegarsi al nuovo romanzo che sto che sto scrivendo perché cosa rimane dei nostri amori che questo per chi ancora non lo conoscesse dovrebbe essere il primo di una di una trilogia vediamo vediamo cosa cosa succederà è un personaggio che si trova nelle ultime pagine del libro poi sarà il protagonista dell'altro dell'altro romanzo la vi leggo queste due due battute jacopo e jacopo era ritornato a cacuri dopo tantissimi anni dopo aver risolto il caso con l'aiuto del del maresciallo e dopo aver avuto un successo planetario come autore di colonne sonore ritorna a cacuri in occasione del del della morte della mamma e quindi sta per andare via e prima di andare via e osserva questo questo paesaggio vi leggo solo l'ultima parte e jacopo mosse lo sguardo verso la fonte di impercettibili rumori di sottili immagini che credeva di aver dimenticato e che anzi si agitavano in lui al dispetto della sua volontà di scordarli in lontananza rusci di cammini accesi voci raccolte intorno alla caffettiera del gas tapparelle sollevate lenti passi sui san pietrini sentì il sole levarsi alle spalle dietro il campanile di santa maria delle grazie anche la valle del papa cominciò a colorarsi e le case si riappropriarono della loro fisionomia spintonando nello scuro che si dileguava verso le montagne dell'asila scomparve la luce di due lumini appoggiati sulla finestra di quello che un tempo era stato lo studio del dottor spadafora mentre libero il due di bastoni scendeva da via buonasera con il bavaro della giacca alzato fischiettava e a intervalli regolari rigirava fra le mani un vecchio cacciavite era ora di andare jacopo mise le mani in tasca e prese le chiavi della macchina in lontananza in un cielo che si era fatto turchino e puntellato dalle ali nere delle ciavole solo alle note di un vecchio giradischi che restilde nos amour cosa rimane dei nostri amori jacopo jacone sarebbe a 54 anni era un uomo stempiato con due occhi bagnati dallo scontento mi faccio un applauso da solo perché non c'è non c'è nessuno e vi ringrazio per essere stati con me in questa questa mezz'ora mezz'ora scassa di lettura ringrazio chi mi ha ospitato questa pagina facebook di sonati vicino ringrazio le le libraie di non ci resta che leggere anzi in libreria il libro c'è e leonora soprattutto è una libraia molto attenta e vi spedisce il libro in qualsiasi parte parte l'italia non naturalmente solo il mio ma gli altri grazie di nuovo e alla prossima